Oh, che butta la calura! Ma non c'è proprio nessuno da queste parti, neanche un cavaliere, un duca, un conte, un re, un principe, nessuno proprio! Che pena! Contesa! Oh, paprilecipe! Che piacere! Che bellezza! Che bellezza vederti! Senati principe, io e te non abbiamo mai disquisito la parola, niente mai! Parlami un poco di te, sei ancora a Castello con i tuoi? Eh sì, con i miei, con i miei, cosa vuoi che ti dica? E di qualche cosa, non lo so! La mia famiglia! Parlami di te, della tua famiglia! Una grande famiglia! Sì! C'è mio padre, che è ingegnere elettrotecnico, mio fratello, disegnatore grafico, un altro fratello, architetto, alla faccia! Poi ci sono io che sono biologo! Però! Meno male che sta mia sorella che fa la prostituta e mandi in tutta la famiglia! Cosa? Cosa? Cosa?